Che poi Carlo a livello scaramantico ha anche un po' di responsabilità avendo lui comunque indirizzato la decisione sul nome in virtù del 14 che vuol dire 2014 ma anche da sempre il numero feticcio perché il 14 nella vita di Alonso c'è sempre. Sì, il 14 luglio quando aveva 14 anni col car numero 14 ha conquistato il titolo mondiale. Per questo dobbiamo anche un po' riprendere i rapporti con i nostri amici appassionati di Formula 1 e magari si sono un po' addormentati nel periodo invernale, magari non sanno che da quest'anno i piloti hanno già scelto il loro numero personale che si porteranno in tutta la loro carriera in Formula 1. Alonso proprio per questo motivo ha chiesto il 14, ha ottenuto il 14 e quando è partito il sondaggio per il nome della Ferrari ha detto io vorrei F14T e visto che stava vincendo F166 Turbo, ossia 1.6 6 cilindri, è stato decisivo Alonso del suo invito a passare all'F14T che tra l'altro casualmente ricorda Fiat ma secondo me è anche corretto e giusto anche se poi è arrivato tutto casualmente però è giusto anche ricordare il gruppo, la casa madre. Tra l'altro è successo pazzesco sul web di questo sondaggio Fabiano perché hanno votato un numero impressionante di persone qualcuno ha detto certo che per votare F14T che poi l'assonanza, le tre numeri potrebbe dare l'idea di Fiat insomma non c'è stato tanto coraggio da parte di chi ha votato però è anche vero che la semplicità vince sempre può essere, no? Come la vedi? Secondo me è bello che un team così importante, forse il più potente della Formula 1 si dedichi comunque ai suoi appassionati dando a loro la scelta più importante ovvero sia quella dell'assegnazione del nome di una vettura di Formula 1 proprio quella che rappresenta la categoria principe di tutte le categorie racing alle quali la Ferrari partecipa. Abbiamo sentito Fernando Alonso, ne approfitto per ricordare che è la sua quinta stagione con la Ferrari e questo mi dà l'assist anche per in questo giorno ricordare anche il grande Michael Schumacher che ancora lotta in quello che è il suo gran premio, non voglio entrare nella retorica, della vita purtroppo non abbiamo più aggiornamenti, sappiamo che da ormai un mese è tenuto in coma farmacologico. Mi dà l'assist perché Schumacher ha conquistato il titolo mondiale al suo quinto anno con la Ferrari ne aveva già 22 come Alonso con la Benettona, allora Alonso con la Renault, la stessa scuderia praticamente e dopo che ne aveva persi due all'ultima gara, quindi anche questo può essere un assist forte per la Ferrari anche per portare in giro per il mondo sempre più il nome di Schumacher anche se poi Schumacher ha scelto la Mercedes per il suo ritorno in Formula 1. Sì ma il cordone umbilicale c'è e ci sarà sempre la maggior ragione. È sempre assolutamente legato, vorrei chiedere a Fabiano, abbiamo visto il muso della McLaren, non so quanto il muso sarà poi determinante nella prestazione finale anche perché ci sono talmente elementi sotto il Turbo, il Kers e l'Hers che il muso sarà relativo. Ti sembra, secondo te chi è andato più estremo? Chi ha preso la soluzione meno seguendo alla lettera regolamento e cercando di andare a portare la sticella già un po' più in là? Allora ne parlavamo forse prima Carlo, secondo me non tutto quello che vediamo e quello che non vediamo lo ritroveremo questa settimana i test di RS più distante a metà marzo con la prima gara quindi stanno molto attenti i team adesso a proporre tutte le loro novità proprio perché ci sono i test avanti se qualcosa di interessante, di innovativo c'è può essere copiato e testato appunto dalle squadre adversarie. Però quello che vorrei chiedere agli amici a casa è perché la McLaren ha un muso così e la Ferrari ne ha uno completamente diverso e la Williams ne ha uno diverso e la Lotus ce l'ha a Forchetta. e se la Ferrari mi sembra che sia un po' più attenuta al regolamento o comunque l'ha seguito un po' più alla lettera rispetto ad esempio a quello che abbiamo visto da McLaren. Allora la Ferrari ha deciso per un muso tra virgolette convenzionale largo, basso come il regolamento vuole quindi un punto di altezza massimo del muso di 185 mm rispetto al piano di riferimento cosa che non ha fatto la McLaren, non ha fatto la Williams con una soluzione a punta molto rastremata nella parte anteriore, questo perché? Perché il muso basso toglie aria, alimenta meno il fondo della monoposto e fa perdere carico aerodinamico. Questo sulla carta perché appunto dipende da come viene configurata la vettura, non conta solo il muso ma l'aerodinamica completa. Oh contano anche le voci dei protagonisti, abbiamo sentito Alonso, adesso vi va di sentire Stefano Domenicali ma iniziamo da Mr. Iceman o Kimi on the Rock, anche questo è il suo secondo soprannome, il ritorno di Raikkonen in Ferrari ecco qui come parla dei suoi obiettivi e anche della rivalità con Alonso. È bello essere tornato in Ferrari, squadra con cui ho vinto il mio titolo mondiale nel 2007, faremo del nostro meglio insieme proveremo a vincere in gara ma soprattutto il mondiale. Il tempo ci dirà se avremo ragione ma sono qui per la vittoria più grande, il titolo. Siamo la squadra più forte, dobbiamo esserlo, abbiamo davanti a noi un grande lavoro. Entrambi vogliamo vincere, vedremo cosa succederà, ma vogliamo riportare il mondiale alla Ferrari, ci saranno tante novità e nuove regole ma quello a cui aspiriamo tutti sono i risultati. Penso che saremo abbastanza veloci per combattere per il titolo. Io credo che abbiamo messo in piedi una serie di iniziative organizzative soprattutto per far sì che davvero quest'anno sia una stagione dove dobbiamo portare a casa il risultato ambito che ci manca da un po' di tempo e che abbiamo, come dicevamo prima, sfiorato per un nulla poco tempo fa. L'errore che non dobbiamo commettere è soprattutto quello all'inizio di cedere alle pressioni, che saranno tante, di entrare in un panico sportivo se, come mi aspetto, soprattutto nelle prime giornate di test, ci saranno le difficoltà da affrontare così come avranno tutti. Ecco, questo è l'unico errore che pretendo dai miei uomini che non si faccia, cioè quello di lasciarsi trasportare dall'emotività che non ti fa lavorare bene in una fase all'inizio dove io credo che soprattutto l'affidabilità debba fare la differenza. Oh, affidabilità. Però Carlo, hai sentito, Domenicali, una sincerità disarmante. Non dobbiamo cedere al panico sportivo nelle prime gare. Sì, dice bene perché è una stagione talmente diversa, lo vediamo esteriormente da quei musi così diversi, ma sarà molto diversa per l'utilizzo del turbo, per il limite di 100 kg di benzina, poi andando ancora più nel dettaglio, 100 kg ora di flusso benzina, insomma cose complicate, il turbo, il kers, l'ers. Rispetto ai 140 di prima, cambia. Sì, e molti sono preoccupati di non riuscire a finire il programma. Questo cosa porterà? Porterà delle squadre a valutare il passo gara, quindi a essere più veloci in alcune fasi di gara, a dover rallentare in altre fasi di gara, a dover pensare alla benzina. Molti dicono, vabbè, ma che Formula 1 è se devi rallentare? Io credo che questo sia un ritorno alla Formula 1 vera, perché molti di noi sono cresciuti saltando sulla poltrona nel momento in cui, faccio un nome, Piquet, davanti, dominava il Gran Premio, poi di colpo rallentava perché aveva finito la benzina. E quella secondo me è un'incognita che deve tornare, la possibilità, poi tutti ovviamente riusciranno a trovare il dosaggio giusto per arrivare sempre in fondo, ma secondo me quello anche deve tornare a essere la Formula 1, l'incognita della resistenza delle parti meccaniche, del consumo della benzina, perché poi quello che è la Formula 1 deve essere anche trasmesso alla quotidianità, quindi quando fai un viaggio sapere se arrivi fino al distributore, se non fai benzina. Quindi credo che quello lui voglia sottolineare. Ci saranno fasi molto diverse, tempi durante i test molto particolari, a volte molto alti e quindi dice, non facciamoci prendere da quelle che saranno le prime indicazioni anche alle prime gare, ma lavoriamo sul piano che tutti i team hanno già fatto per le prime 6, 7, 8 gare fino al secondo, terzo step evoluzione. Sei d'accordo Fabiano? Non può essere altrimenti. Mi allineo assolutamente con Carlo. Io condivido pienamente il fatto che abbiamo, come diceva Carlo, siamo cresciuti negli ultimi vent'anni vedendo piloti che devono soltanto guidare forte. In qualifica e in gara devono dare il 100% perché hanno le gomme strutturate per forzare al limite la macchina che ha una capacità di affidabilità enorme. Adesso ritorneremo, come negli anni 50, 60, 70, avere un pilota che deve andare forte ma deve saper gestire le meccaniche e soprattutto trovare un buon compromesso tra prestazione e consumo. Quindi tutte caratteristiche che di fatto diventano fondamentali per recuperare 25 punti. Io mi sto già appassionando, anche perché è una sfida enorme per gli ingegneri motoristici. Avvocato del diavolo, c'è il timore che Ferrari, Mercedes e Renault realizzino un propulsore simile in questa situazione. Sono figli dei regolamenti. I regolamenti in questo caso lasciano più libertà rispetto alle ultime specifiche dei motori aspirati che volevano tutti 8 cilindri con delle limitazioni molto strette. In questo caso a livello meccanico, quindi 6 cilindri 1.5 turbo, sarà strettamente vincolato, ma ci sarà un'enorme apertura per tutto quello che riguarda le interazioni tra KERS, ERS, batterie, flussi di carica e cicli di ricarica. In questo caso c'è grandissima apertura, quindi l'interpretazione degli ingegneri che hanno delle intuizioni e riescono a provarle. Probabilmente in quest'area del motore, quindi la parte ibrida, riusciranno a realizzare il propulsore vincente o che comunque riesce a garantire le migliori prestazioni in termini di consumi o prestazione di coppia. Già gli ingegneri motoristici amano le sfide, ma qui insomma Carlo ci vanno un po' a nozze. Oh, molto molto semplicemente, associate, diamo un soprannome a questa nuova Ferrari ragazzi, non so, assomiglia a un animale, a qualcosa? Al beluga sembra. Al beluga? Il cargo dell'Airbus, non so se l'avete mai visto, la regia ce l'ha già pronta. Io spero sia uno squalo, o forse un pesce gatto lì davanti con quel baffi. Un pesce gatto? Spero per gli italiani che sia uno squalo, perché lo ricordiamo la Ferrari è la nazionale italiana dei motori, seguiremo ovviamente molto anche la Toro Rosso che è l'altra squadra italiana che corre in Formula 1, ma la passione degli italiani, molti lo so che non sono ferraristi e quindi adesso diranno, eccoli qua che arrivano a fare i loro discorsi filo ferraristi, ma in realtà è così e io credo che sia, soprattutto in questo periodo di crisi, l'ho detto spesso, dobbiamo essere orgogliosi di quello che ci fa essere orgogliosi di noi italiani all'estero e è riconosciuto indubbiamente il marchio Ferrari come essere un orgoglio del mondo per noi e quindi spero per gli italiani davvero che al di là degli scherzi di come possa chiamarsi o essere definita questa macchina, sia un beluga velocissimo sott'acqua e possa battere gli avversi. Allora io vi ringrazio naturalmente di questa mezz'ora insieme, ma ci avete svelato davvero i dettagli e dal punto di vista delle curiosità e dal punto di vista tecnico, ci salutiamo peraltro con le dichiarazioni di Di Montezemolo e però ieri a Maranello è arrivato un certo signore, Niki Lauda, che insomma è il presidente Mercedes, ok che è un rivale, però anche qua il cordone umbilicale con la rossa c'è sempre stato. È arrivato tardi, è arrivato tardi, perché hanno già preso Raikon. Sì, ma è arrivato a salutare un vecchio amico, adesso Niki Lauda non la racconta giusto, cos'è arrivato? Ma adesso sono anche in corso un po' di manovre, di accordi, insomma soprattutto si vuole evitare che qualcuno faccia il furbo, quindi si chiacchiera, si parla, si cerca di dire ok va bene tutto, ma evitiamo che qualcuno possa tirare fuori come fece Rose Brown dal cilindro, un qualcosa di irregolare e poi si debba passare le prime gare più a discutere sull'irregolarità che non di aspetti sportivi. Mi fa piacere ovviamente vedere Niki Lauda a Maranello e fa strano vederlo a Maranello perché comunque lui è il big boss della Mercedes che ieri ha girato in un film in day e avrà un muso diverso anche la Mercedes, possiamo anticiparla perché abbiamo già visto delle immagini. quindi è molto particolare, scherzavo dicevo, Raikkonen ha già preso il posto in massa perché Niki Lauda secondo me si propone ancora adesso anche come pilota. Grazie, grazie Carlo Vanzini, grazie Fabiano di tutte queste spiegazioni, delle monoposto finora presentate a livello anche estetico ovviamente, ma come si colloca la Ferrari fin qui? Beh il rosso è bello quindi diciamo che è la più bella. Lì ha solo un secondo per dire che Fabiano torna per rispiegare tutte le caratteristiche. E alle 19 il canale Sky Sport Formula 1 HD, uno speciale di un'ora sulla presentazione della Ferrari, quindi sulla nuova stagione che ormai è partita.